Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video Oggi testeremo la mia moto, ma senza DBKIDER perché siamo arrivati a 100 like nel dito del montaggio e visto che ci siamo, chi sta tenendo il telefono ha una Ducati Street Fighter nuova, ma questa è un'altra storia con lo scarico originale siccome è curioso di sapere quanti decibel ha vedremo quanti decibel ha una Street Fighter V2 e quindi prima di iniziare, sigla, ma... ti sei iscritto al canale? hai girato il telefono? non è per muto, iscriviti, cazzarola, iscriviti cambio di regia, quindi tengo io il telefono in mano ma Luca accenderà la sua moto mannaggia, quelle chiavi ancora cos'è sta roba? sentiamo al minimo, quanti decibel fa? metti nel moto facciamo il solito passo 82-83 decibel al minimo ma a piena potenza, quanti decibel farà? 111 decibel che per essere uno scarico originale tutto sommato non è niente male ma d'altronde gli Ducati si sa, fanno tanto rumore adesso passiamo alla mia moto la metto in moto un attimino, la scaldo quindi... fatemela scaldare e dopodiché tiriamo via il DB Killer anzi, col cacchio prima tiro via il DB Killer, dopo la scaldo per tirar via il DB Killer bisogna tirar via questo dado grazie alla mia super chiave a cricchetto tiriamo via il dado grazie a Arrow che hai fatto un sistema semplicissimo e dopo con la pinza lo si estrae e questo qua è il DB Killer bene, non so se vi ricordate nel video del montaggio ma vieni qua e inquadra pure qua dentro non c'è niente ci entra un pugno tutto indirlo qua tutto indirlo qua ci entra un pugno e quindi ho paura che farà tanto casino vediamo al minimo quanti decibel fa che sono curioso quindi la mettiamo in moto chiave in tasca la mettiamo in moto vediamo al minimo quanti decibel fa così intanto la scaldiamo il solito passo siamo tra i 97 e i 98 decibel al minimo ho paura di cosa succederà tra un po' allora vieni qua che ti faccio vedere temperatura odio 70 gradi 4 tacchette quindi la temperatura è perfetta per provare quanti decibel fa quindi ti lascio il fenometro ti metti a passo l'operai qua ho sentato che si veda direttamente il massimo così vediamo un attimino bene ragazzi 127.6 non pensavo così tanto credo che faccia più casino della mia vecchia Super Duke quindi ringrazio MotoCiardi che mi ha fornito lo scarico se pensate di avere una moto più casinista della mia contattatemi su Instagram avete visto già tanti vecchi video dove io testo i decibel non è la più casinista del mio canale perché ci sono moto molto più terrorista della mia ma ricordo che io ho solo il terminale qua ho tirato via di B-Kidder non si può circolare senza ma non oso immaginare con un impianto di scarico completo questa Super Duke quanto cacchio di casino possa fare bene grazie per aver visitato questo video se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi, commentate, condividete e ci saranno delle ulteriori novità della moto ho ordinato due cose belle e grandi ciao 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 Sì Sì Sì